oggi siamo stati al mercato e la mia compagna ha trovato una maglia a 5 euro in un banchetto di cinesi costava davvero poco bene abbiamo scritto una legge sulla moto tossica parlando di coloranti e soprattutto di colori scuri blu e nero che non sono ancora stati normati dalla normativa italiana bene adesso facciamo un esperimento siamo qui siamo andati al mercato abbiamo comprato questa maglia eccola qui in mano e ora la laveremo eccoci qua questa la togliamo e questa è quello che ha rilasciato il colore dell'acqua pensate voi quando magari ci sudate dentro pensate quando dite vabbè ho speso poco questo è quello che ha rilasciato alla prossima che sono 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 Grazie a tutti.